Ciao a tutti, allora io credo che sia un dovere, un nostro dovere oggi per essere intellettualmente indipendenti e autonomi ricordare la storia e fare una serie di collegamenti. Vi leggo questa dichiarazione. I cittadini non si devono aspettare una sola battaglia ma una lunga lotta che avrà momenti pubblici e momenti segreti. Tutti gli stati del mondo devono decidere o con noi o con i terroristi. Chi ha pronunciato secondo voi queste parole? Perché se ci pensate riguardano tutte le guerre degli ultimi 22 anni, dall'attentato alle Torri Gemelle in poi. Queste parole, riferendosi ai cittadini americani, le ha pronunciate Bush il 21 settembre del 2001, quindi dieci giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Gli americani si dovranno aspettare una lunga lotta. Tutti gli stati del mondo devono decidere o con noi o con i terroristi. Guerra di civiltà. Il bene contro il male. Noi, la luce, stiamo combattendo le tenebre e questo è il momento di schierarsi o con noi o contro di noi, o con il mondo libero democratico o con i terroristi. Prima della guerra in Afghanistan, che ha causato vittime civili incredibili e si è conclusa dopo praticamente vent'anni con un negoziato fatto dagli americani, dagli stessi che appunto sostenevano o con noi o con i terroristi, con i terroristi o presunti tali, ovvero i talebani che oggi sono al governo del paese in Afghanistan, segno che dei diritti umani, la condizione delle donne non gli interessava nulla al blocco occidentale, che ha speso 2.000 miliardi di dollari, denari sufficienti per affrontare in maniera considerevole i cambiamenti climatici, i disagi economici, la povertà mondiale, spesi in Afghanistan per arricchire il complesso militare-industriale, coloro che godono quando vi è una guerra, ancora di più una guerra duratura. Nel 2011 Assange, quando ancora era libero, disse che l'obiettivo dell'Afghanistan, quindi otto anni prima poi dei negoziati Stati Uniti d'America talebani, disse che l'obiettivo dell'Afghanistan non era una guerra di successo perché non si sarebbe potuta vincere e già lo scrivevano gli stessi militari americani sul campo in tutta una serie di documenti pubblicati a Wikileaks, i famosi Afghan warlocks, l'obiettivo era una guerra duratura perché soltanto una guerra duratura consente sia di salvaguardare determinati interessi, piazzare le bandierine intorno magari all'Iran o più vicini alla Russia e soprattutto arricchire il complesso militare-industriale, la maggior parte delle fabbriche di armi mondiali, le principali sono nordamericani. Tra l'altro i principali azionisti delle principali fabbriche di armi a livello mondiale sono banche d'affari e fondi di investimento finanziari, per lo più americano, lo dico sempre, per BlackRock, Vanguard Group e State Street Corporation. Dopo queste fake news, questa narrazione appunto quasi morale di scontro di civiltà, il bene contro il male, dopo la guerra in Afghanistan, due anni dopo c'è stata la guerra in Iraq. Vi leggo esattamente quello che disse Colin Powell, credo che all'epoca fosse segretario alla difesa, alle Nazioni Unite per giustificare l'intervento militare in Iraq. Colleghi, ogni cosa che dirò oggi è sostenuta dalle fonti e da fonti solide. Queste non sono dichiarazioni, quello che vi stiamo dando sono fatti e conclusioni basati su intelligenza attendibile. Saddam Hussein ha armi chimiche, Saddam Hussein ha usato queste armi e Saddam Hussein non si fa scrupoli a usarle ancora, contro i suoi vicini e contro il suo stesso popolo. Durante quel discorso Paolo utilizzò la locuzione armi di distruzione di massa per 17 volte, poi anni dopo ha detestato un grande errore, una macchia sulla mia carriera, una macchia sulla mia carriera che è costata tra morti dirette e indirette 600.000 vittime, 600.000 morti iracheni, arabi, 600.000 morti, ma ci rendiamo conto, una macchia sulla mia carriera, disse Colin Powell. La strategia, se ci pensate appunto di Bush all'epoca, fu sostenere che Saddam fosse complici di Al-Qaeda, tra l'altro non c'è tra niente, Al-Qaeda ha proliferato grazie al vuoto di potere realizzato dalla seconda guerra in Iraq nell'intervento del 2003, tra l'altro è cresciuto il terrorismo islamico in Iraq e appunto che avesse delle armi di distruzione di massa addirittura che fosse prossimo alla costruzione di armi nucleari. Pensate che Benjamin Netanyahu all'epoca aveva perso le elezioni, quindi aveva detto abbandono la politica, tipo Renzi, poi era ritornato in politica, credo che nel 2002 fosse ministro degli esteri di Israele, Netanyahu dichiarò è certo che Saddam sta portando avanti un programma per lo sviluppo di armi nucleari. Uscirono alcuni documenti, tra l'altro falsificati, credo della ambasciata nigerina di Roma, falsificati, che venne chiamato questo scandalo il Nigergate, chiamiamolo in questo modo, e mi sono andato a riprendere un articolo, pensate, di Repubblica, firmato da Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo, doppio giochisti e dilettanti tutti gli italiani Nigergate, fabbricate a Roma in maniera goffa e artigianale, le prove su Saddam, storia del falso dossier uranio che il sismi spedi alla CIA. Pensate che all'epoca circolano appunto delle informazioni su un presunto acquisto da parte di Saddam Hussein di tonnellate e tonnellate di uranio dal Niger, i niger erano i principali produttori di uranio al mondo, per costruire armi nucleari. Fake news rilanciata anche negli Stati Uniti d'America, prodotta artificialmente, evidentemente già per iniziare a creare quella narrazione capace di giustificare un intervento in Iraq che ha massacrato i civili, ripresa dallo stesso Benjamin Netanyahu. È importante ricordare fatti concreti, poi Repubblica, inchiesta su Repubblica, quando Repubblica faceva inchieste serie. È importante ricordarlo perché pensate oggi, pensate che oggi non vi sia propaganda, non vi sia la narrazione capace di tentare di giustificare o lo scontro di civiltà e il bene contro il male, oppure chissà io mi auguro di no, perché io sono indignato per quel che sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania e molto preoccupato per un potenziale allargamento del conflitto, perché sono convinto che una parte dell'amministrazione diciamo Netanyahu e una parte del compresso militare e industriale americano, dell'amministrazione e Biden, stia pensando di colpire l'Iran una parte, poi speriamo che non avvenga, però senz'altro se ne sta parlando, in chiave secondo me soprattutto antirussa. Gli iraniani sono degli alleati dei russi, è molto probabile che abbiano fornito anche in una fase della guerra in Ucraina armamenti. L'Iran è il terzo o il quarto paese al mondo per riserve petrolifere, c'è chi sostiene sia il terzo che il quarto. Come dire, l'accerchiamento della Russia potrebbe anche passare attraverso un indebolimento di alcuni suoi alleati. L'Iran è oggettivamente oggi un alleato della Russia. Lavrov qualche giorno fa è andato in Iran non a caso, l'Iran insieme alla Russia fa parte del consesso dei paesi del Caspio, eccetera. E io sono spaventato perché dopo le falsità sull'Afghanistan c'è stata la guerra in Iraq, anche dopo le falsità sull'Iraq c'è stata la guerra in Libia. Anche la guerra in Libia ricorderete, ah mi sono preso anche qua una dichiarazione. La vittoria di Gheddafi sugli insorti, perché in quel momento dopo il tentativo di rovesciare Gheddafi, Gheddafi stava riconquistando terreno e potere. La vittoria di Gheddafi sugli insorti non significherebbe automaticamente la fine della crisi libica. Il paese infatti potrebbe a quel punto scivolare verso la guerra civile totale. Al-Qaeda non chiede di meglio. Una Libia instabile sarebbe il teatro perfetto dove insinuarsi magari con l'appoggio dello stesso Gheddafi. Tra l'altro Gheddafi era un avversario d'Al-Qaeda. Gheddafi disse, occhio che se casco io poi aumenterà il terrorismo islamico, e da questo punto di vista aveva ragione. Io non l'ho mai difeso Gheddafi. Questa dichiarazione la feciera recrinto all'epoca segretario di Stato, un'immesso degli esteri Stati Uniti d'America, il 16 marzo 2011. Pochi giorni dopo Obama, tra l'altro se non sbaglio 526 giorni dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace, diede ai raid militari sulla Libia per deporre Gheddafi. E la stessa cosa fece Sarkozy che aveva tutti altri interessi geopolitici e anche personali, incentramienti, diritti umani e Al-Qaeda che viene utilizzata in questo modo. Cioè il tema della guerra globale al terrorismo non dovrebbe più funzionare, visti i risultati, dato che la guerra al terrore è iniziata con la dottrina Bush dopo l'attentato delle torri gemelle, sono passati 22 anni, però viene costantemente tirata fuori anche, lo vedete in tv, quando vado in tv, stai con i terroristi o stai con il mondo libero e la democrazia? Scemenze. È opportuno ricordare tutto questo, è opportuno ricordare che la guerra al Libia, che ha sostenuto gli interessi francesi della totale, anche i petroliferi, gli interessi americani che vorranno buttare giù un uomo incontrollabile, Gheddafi, che si stava avvicinando anche in un certo senso a Cina e Russia. È geopolitica. E per quale motivo sono spaventato? Perché in un momento in cui obiettivamente il blocco occidentale con gli Stati Uniti d'America capofila sta perdendo alcune certezze, sta perdendo campo. Pensate a come è andato il voto giorni fa all'Assemblea delle Nazioni Unite. Tutto il mondo sostanzialmente chiedeva, chiede un cessato il fuoco e Israele continua a bombardare. Tutto il mondo, tutto il mondo sta oggi, praticamente tutto il mondo, guardate le manifestazioni, tutto il mondo sta dalla parte oggi del popolo palestinese. Praticamente tutto il mondo. Non il potere, non l'establishment politico o mediatico, soprattutto del blocco occidentale. Dunque in un momento nel quale sta cambiando il mondo, io temo, temo, spero di sbagliarmi, che appunto l'allargamento del conflitto possa essere una eventualità più probabile, perché storicamente gli Stati Uniti d'America hanno affermato il loro dominio anche e soprattutto attraverso le guerre. Non c'è mai stato un paese dell'ultimo secolo, perlomeno, anche prima, negli ultimi 150 anni, che abbia fatto più guerre degli Stati Uniti d'America. Non esiste. La Libia. Mi sono andato a riprendere anche delle dichiarazioni di Biden, credo avvazzati. Non sarete mai soli parlando agli ucraini. La lotta dell'Ucraina fa parte di qualcosa di più grande, riguarda la nostra stessa libertà. Pensate ancora alla narrazione. Non riguarda l'Ucraina e la Russia in Donbass, no, no, qualcosa di più grande, riguarda la nostra stessa libertà. È coinvolgimento geopolitico, è interesse. Non c'entra niente la libertà, non c'entra niente, sono interessi. E oltretutto una guerra è sempre un business, soprattutto per chi produce un numero enorme di armamenti, e sono per lo più appunto le industrie americane. Ancora Biden. Tutti sappiamo cosa è in gioco qui. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che un paese europeo non veniva attaccato. Tra l'altro balle, perché gli americani hanno attaccato un paese europeo, molto più vicino addirittura all'Italia, perché Belgrado è più vicino all'Italia rispetto a Kiev, quando è stata bombardata appunto Belgrado, una grande capitale europea, anche lì non c'entrava niente, Milosevic e i diritti umani. Era in un certo modo un altro modo, in un momento in cui la Russia era molto molto debole, di colpire uno storico alleato appunto dei russi, perché la Serbia è sempre stato un alleato dei russi. Un momento in cui Yeltsin era in difficoltà totale, dato Yeltsin è sempre stato uno che ha venduto di fatto la Russia agli interessi fondamentali internazionali, grande capitalismo americano, e in quel momento stava sorgendo Putin, in un certo senso, ma in quella fase comunque è stata bombardata una capitale europea, uno Stato europeo, quindi già è successo ampiamente, quindi oltretutto Biden mente, ma insomma non è per tutto lucido. Credo che non sia lui oggi a prendere decisioni. Mi sono andata a riprendere però, quando la Meloni ha incontrato Zelensky, quest'altra dichiarazione, 13 maggio scorso, l'Ucraina sta combattendo anche per noi, anche per noi. Perché vi dico questo? Perché mi sono andata a leggere le dichiarazioni ieri di Netanyahu, il quale ha detto, testuale, Israele non sta combattendo solo la nostra guerra, ma la guerra per tutta l'umanità, cioè non combatte la sua guerra, ma combatte per noi. Come fa l'Ucraina? Esattamente questo ha detto la Meloni. Di nuovo lo scontro di civiltà. Questa è la narrazione che vuole dividere fondamentalmente le pubbliche opinioni, in questo momento la pubblica opinione italiana ovviamente ha delle divisioni, ma io sono convinto che la maggior parte dei cittadini italiani abbia capito il giochetto. I politici non fanno più politica, non sono politici, sono esecutori di ordini altrui, è evidente, è evidente su tutto. Non comanda la Meloni, non comanda il governo dei sovranisti, neanche l'opposizione, ma vi pare che il Partito Democratico nel momento cinque stile abbia ancora presentato una bella conferenza stampa durante la quale appunto presentare una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma questa è l'unica azione potente a favore della pace. È evidente che il terrorismo, e poi in Italia veramente si ha difficoltà a comprendere la differenza tra capire un fenomeno e giustificare un fenomeno, sono due cose diverse, ma è evidente che il terrorismo appunto sia correlato alle violenze e alle violazioni di diritti umani. È evidente che è esattamente quello che ha detto Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, condannando gli atti terroristici per due volte, ma dicendo non nascono da nulla. È evidente. In queste ore, mentre appunto a Gaza viene sterminato una popolazione, ogni giorno, centinaia di bambini, ogni giorno, andate a vedere, se avete coraggio, le immagini pubblicate su Instagram dal canale I on Palestine. È sconvolgente, tra l'altro nelle ultime ore addirittura con i collegamenti internet e telefonici tagliati. Ora forse Musk sta intervenendo, qualcosa sta cambiando. Per quale motivo? Perché queste immagini stanno facendo il giro del mondo, giro del mondo, tant'è che ci sono manifestazioni clamorose a Londra, ovviamente anche nei paesi arabi o musulmani, ma a Londra, a Parigi dove vengono vietate. A New York e gli ebrei americani, tra l'altro altra storia per confutare la scemenza dell'antisemitismo, ma che c'entra l'antisemitismo? Gli ebrei americani, fantastiche persone, fantastiche persone, gli ebrei, arrestati a centinaia perché hanno occupato la Grand Station, la Grand Terminal Station, la stazione nel centro di New York, con immagini forti, non il nostro nome, slogan forti, santa pazienza, grandi, e avevano credo anche occupato il congresso. Esistono pagine anche su Instagram di ebrei contro il genocidio, ebrei a sostegno della causa palestinese, veramente tutte robe da raccontare, no? Vedete come la comunicazione tende a semplificare tutto e a creare le divisioni e la disinformazione. State con i terroristi, siete antisemiti. State con i terroristi, siete antisemiti. Scemenze! Ma è la storia, vi ho portato soltanto delle dichiarazioni per farvi capire qual è la narrazione politica e militare di fatto che vi è stata negli ultimi 22 anni dall'attentato dei retori gemelli a ieri che ha parlato Netanyahu. Ora ci troviamo in questa prova. Esistere o cessare come Stato Israele? Ma chi mette in dubbio l'esistenza dello Stato Israele? Israele ha l'esercito più importante al mondo, le bombe nucleari, sostenuto dall'esercito più grande e potente al mondo, l'esercito americano. Davvero credete alla frase Netanyahu? È in gioco l'esistenza dello Stato Israele? Ma quando mai? È in gioco la sopravvivenza del popolo palestinese? E basta! Perché l'obiettivo di una parte consistente oggi, diciamo, del governo Netanyahu, forse no, della pubblica opinione israeliana, e senz'altro di due partiti estrema destra, è cacciare tutti i palestinesi da Gaza e aumentare le colonie a tal punto da spingere, lo so, in Giordania i cittadini che vivono in Cisgiordania, West Bank. Questo è l'obiettivo, depalestinizzare la Palestina. Questo di una parte, non di tutta una società, è evidente. In queste ore, ai coloni israeliani, che vivono in coloni illegali, viene stata nel 2016 una risoluzione, pensate, votata da 14 membri su 15 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. All'epoca, ultima risoluzione votata durante l'epoca Obama, gli Stati Uniti d'America sono astenuti e non hanno esercitato il potere di veto, una roba incredibile. È una risoluzione che definisce le coloni illegali, che le coloni violano il diritto internazionale, definisce come un grave ostacolo alla pace. Anzi, neanche traduzione, c'è scritto che significa che più crescono le coloni e più non ci sarà pace. E che è successo negli ultimi, prima del 7 ottobre? Cosa è successo negli ultimi due anni? Una proliferazione sconvolgente di colonie in Cisdordania, nei territori occupati, in territori dove non devono stare gli israeliani, e dove vi sono quotidiani assassini di cittadini palestinesi ad opera di coloni israeliani protetti dai soldati israeliani e oggi armati con nuovi fucili d'assalto distribuite alla cittadinanza con la narrazione che vi dovete difendere dagli attacchi. Cioè, oggi gli israeliani, i coloni, alcuni dei quali, non tutti evidentemente, uccidono a casa dei palestinesi palestinesi. Ma questo non ha a che fare, c'è qualcuna persona razziocinante che non comprende che questo ha a che fare con le cause del terrorismo e della lotta armata? C'è qualcuno che non lo comprende? C'è qualcuno che comprende che se vengono chiusi tutti gli spazi diplomatici, se nessuno ha il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina, parliamo del blocco occidentale perché la maggior parte dei paesi a livello mondiale l'ha riconosciuto, ma i paesi del cosiddetto mondo libero non lo riconoscono, poi ci saranno sempre più persone che penseranno che l'unica soluzione è lotta armata e terrorismo. Come negli anni Ottanta, quando Craxi disse la lotta armata e terrorismo sono legittime, parlando di lotta armata e terrorismo sono legittime, ma sono assolutamente controproducenti. Io sono contrario a qualsiasi forma, io sono di violenza a danno dei civili. Per me è un'aberrazione, un'aberrazione. Ma è evidente che sono questi, cioè è l'occupazione dei territori altrui e la mattanza di bambini palestinesi a Gaza e le uccisioni quotidiane di palestinesi nella Cisgiordania ad essere chiaramente correlate al fenomeno terroristico. È evidente. E perché vi faccio tutti questi, ripeto, collegamenti? Vi dicevo poc'anzi perché dopo le balle in Afghanistan nella guerra c'è stata l'Iraq con le sue balle e poi la guerra in Libia con le sue balle e poi la guerra in Ucraina con le sue balle. Quale scontro di civiltà che oggi Zelensky parla e non vi era ascoltato, che la controffensiva è fallita, no? E coloro che erano veramente a fuori della pace sono quelli, e io ci sto perché dal primo giorno ho detto che le armi avrebbero prolungato appunto il conflitto, che è un obiettivo, è un obiettivo strategico anche del complesso militare industriale americano, prolungare una guerra, perché ci si arricchisce, perché si continua magari a indebolire un nemico che è la Russia. Questa è la logica. Coloro che invece pensano alla pace dissero mesi fa c'è uno stallo, ricorderete quando prima della controffensiva ucraina fallita c'era un momento di stallo, no? Diversi mesi. Quello era il momento di mettersi d'accordo e trovare una soluzione diplomatica. Quello, no? Si attendeva la controffensiva, quindi nuove armi inviate, quindi nuove armi comprate, anche con i denari delle tasse dei cittadini europei e nordamericani, come disse Assange in merito alla guerra in Afghanistan, e vediamo, speriamo che vada bene la controffensiva, che poi ha fallito. Adesso che dobbiamo aspettare? La prossima controffensiva ucraina della prossima primavera? Quando ora c'è l'inverno, l'autunno-inverno, campi ghiacciati, scioglimento della neve, fango, quindi aspettiamo la prossima controffensiva primaverile? È tutto collegato, è tutto collegato, e la narrazione per farci percepire, appunto, per farci accettare tutte queste nefandizie è lo scontro di civiltà, il bene contro il male. Ha funzionato lo scontro di civiltà in Afghanistan? Ha funzionato lo scontro di civiltà in Iraq? Ha funzionato lo scontro di civiltà in Libia? Sta funzionando lo scontro di civiltà, il bene contro il male, anche in quel caso, no? L'Ucraina sta combattendo per tutti noi in Ucraina? Sta funzionando dopo quasi due anni di guerra? E secondo voi funzionerà lo scontro di civiltà, il bene contro il male di cui ha parlato Netanyahu ieri? Israele non sta combattendo solo la nostra guerra, ma la guerra per tutta l'umanità? Io vi ho fornito dichiarazioni e tratto inchieste di Repubblica. Vi fornisco questi elementi, perché ovviamente studio ogni giorno queste cose da tanti anni. Buona giornata a tutti e buona domenica.